Noi siamo pronti ad accogliere chiunque voglia lavorare per il bene di Angri, così il sindaco Pasquale Mauri interviene sulla polemica in atto in queste ore tra Fratelli d'Italia e Forza Italia nella sua cittadina. A scatenare la bagarre erano state alcune dichiarazioni di Francesco D'Antuono che si era complimentato con alcuni degli esponenti della maggioranza del sindaco Mauri, in particolare con Alfonso Scoppa, circostanza che aveva fatto presagire agli esponenti di FDI un possibile supporto del partito di Berlusconi alla coalizione di Mauri. Io assisto a questo spettacolo lavorando, 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 perché i cittadini inglesi mi hanno votato per lavorare e produrre risultati, quindi io guardo solo i risultati e poi mi sottoponga ad un giudizio universale, che è quello del voto che ci sarà il 17 maggio. Queste cose le lasciamo agli altri perché ognuno deve fare qualcosa, ma io la cosa che voglio fare è che so fare bene, produrre risultati per questa comunità. Pronto ad accogliere Forza Italia se volessero? Io sono pronto ad accogliere coloro i quali condividono un programma, condividono le regole e vogliono bene anche chi si riconosce in questi principi ben venga.